Diamante Oro Spade Avventure Cime rocciose Battaglie per terra e per mare Foreste Di fuoco Artigiani e avventurieri Principesse e cavalieri Navi e velieri Vuoi partire per questa avventura? E' il DL Day A Chiari Il 6 aprile Nei cortili del Sumber 2000 ragazzi Da 70 contrade 5 terre 5 diamanti 5 virtù Un Solo Palio Vuoi essere tu a conquistarlo quest'anno? Che la fortuna sia dalla vostra parte Che la fortuna sia dalla vostra parte Sudah Ma Ho A Lo Mi Mi Mi